Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 15 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo vergine. Segno fortunato. Una domenica tutto per il benessere. Il lavelo dalla luna in capricorno, segno di terra buon amico del vostro, sostenuto dalla forza magnetica di Plutone che ormai lo abita da anni e da quella geniale di Urano che lo sostiene con un trigono. Buon per voi, che fate tesoro della sua forza su vari fronti, dalla salute all'eros, fino alle curiosità culturali, dalla storia alla politica, dall'economia al mistero. La bianca signora spezza la giornata in due, ma non il vostro buon umore negli interessi che vi ruotano attorno, dagli affetti si passa agli svaghi e soprattutto al benessere. Col passaggio lunare in acquario già in tarda mattinata vi prendete del tempo per il parrucchiere, l'estetista o per produrre i vostri cosmetici in casa, con ingredienti naturali. E poi un po' di yoga e meditazione, corpo, mente e spirito sempre ben allineati. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. L'amore è cieco e in qualche caso miope, riconoscere i difetti del partner equivale a evitarne l'insorgere di altri. Potreste aver bisogno di tutte le vostre energie per cambiare la vostra vita. Ma queste energie sono disponibili veramente a patto che facciati del perdono dei torti subiti la vostra nuova vita. Fate attenzione ai colpi di testa, la persona che amate oggi è particolarmente intollerante ad ogni vostro sbalzo d'amore e attenta a tutto ciò che fate. In fondo negli ultimi tempi la state trascurando. Persona invidiosa e inagguato, sentirete forte il peso di critiche e pettegolezzi sul vostro operato. Tutto nasce da una persona che non vi ama particolarmente e che non è vostra amica anche se dice di esserlo. Oggi sono possibili discussioni per motivi futili, soprattutto economici. Mostratevi sempre sereni e non date mai a vedere le difficoltà nelle quali potreste trovarvi. Giocate di anticipo. Telefonate in arrivo, buone notizie per posta o per e-mail. Inserata qualche piccolo disturbo fisico potrebbe mettervi in apprensione, ma passerà in fretta. Le differenze nel vostro caso diventano come la calamita che fa da collante alla coppia. Coltivatele. Periodo ottimo per le decisioni importanti, ma meditatele a fondo senza precipitarvi. Poteste avere dei vantaggi concreti se prendete la decisione giusta. Non date motivo agli altri di criticarvi o di fare pettegolezzi sul vostro conto, in particolare se vivete un amore clandestino fate in modo che questo resti ben nascosto. Un Plutone particolarmente magico, in un segno per voi prediletto, il Capricorno, il pianeta vi si trova da lontano 2008 e vi rimarrà fino a inizio novembre del 2024, vi fa trovare la poesia nei paesaggi di fine estate, nella bellezza e nel richiamo della natura. Chi di voi ne beneficerà a piene mani saranno i Vergine che festeggino il loro compleanno dal 19 al 22 settembre. Un incastro, tuttavia tra Giove, Nettuno e Saturno, a voi contrario, produce qualche nube di passaggio, che si allontana poi grazie al clima di gioia familiare che ritroverete. Le passeggiate in riva al mare o negli spazi aperti di campagna, è in queste condizioni che sperimentate una vera condizione di benessere. Perché lo stato di salute per voi dipende dalla pienezza affettiva e dall'assenza di ansie economiche. Finalmente una domenica rilassante, sempre in linea con i vostri gusti tranquilli e introspettivi, la luna in Capricorno mattutina con Plutone vi porta a scarpinare o a camminare tranquillamente nella campagna, che già inizia a smorzare i suoi colori suggestionandovi piacevolmente. Fondamentale per voi salutisti e sportivi esercitare la muscolatura e respirare aria pulita almeno una volta o due la settimana. E allora cosa c'è di meglio di una pedalata in campagna o una bella scarpinata in montagna? Molto impegno sul fronte ecologista col passaggio della luna in acquario in tarda mattinata, volontariato al canile o al gattile della vostra città, con tutti i randaggini gettati pietosamente per strada solo per andarsene in vacanza ne avrete da fare per tutto il pomeriggio. Amore ed Eros. Con i figli avete trovato il metodo giusto, date loro i principi inossidabili, ma vi dimostrate aperti alle sfide e ai cambiamenti tipici della loro generazione, in equilibrio insomma, anche senza smancerie vi sentono vicini e sanno che all'occorrenza voi ci siete. Rapporti sereni con tutti, se avete gente a cena faranno come se fossero a casa loro. L'Eros sarà oggi per voi alle stelle, sappiate approfittarne. Una luminosa Venere, la dea che ama il sorriso, nella vicina bilancia, vi spiana la strada di incontri fortunati. Sappiate seguire il suo richiamo. Il vostro carattere generoso ed espansivo vi apre, se siete single, a essere corteggiati un po' in tutti gli ambienti in questo periodo. Lavoro e denaro. Mattinata tutta per i vostri figli, destinata ai giochi se sono piccoli, ai compiti se più grandicelli necessitano del vostro aiuto in latino, fisica, trigonometria, materia nelle quali voi magari andavate fortissimo, mentre loro sono piuttosto debolucci. Un po' di lavoro anche per voi, specie nel pomeriggio, per portarvi avanti coi vostri impegni, se poi il vostro lavoro implica una profonda documentazione, le ore in biblioteca o nel vostro studio saranno serene e rassicuranti. In qualsiasi attività siate impegnati, oggi lavorate divertendovi. Mercurio e Marte fanno scivolare la fatica connessa con l'occupazione professionale. In particolare se siete nati nella prima e terza decade. Benessere. Tutto ok, consideratevi pure con ragione il segno fortunato del giorno, se un problemino di salute vi ha mandati in fibrillazione i risultati rassicuranti del test clinico effettuato vi risolveranno ogni dubbio. pomeriggio dedicato alla cura del corpo, benessere e bellezza ci guadagneranno. Per lei, se fare volontariato o rendervi utili agli altri per voi è un piacere, il lavoro diventa svago, il lascia passare verso l'isola della soddisfazione e il bosco della serenità. Per lui, la natura è bella in qualsiasi stagione, anche sotto la pioggia settembrina. Questo volete insegnare ai vostri figli, il mondo, la vita, vanno apprezzati in tutte le sfaccettature. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.